Per sbloccare le indagini e arrivare all'identificazione degli assassini, la famiglia di Andrea Guarniero, l'imprenditore padovano di 49 anni, ucciso nelle Filippine con alcuni colpi di pistola quasi due mesi fa, sta pensando di mettere una taglia di 20.000 dollari, soldi che dovrebbero servire, e in quel paese sono una cifra molto alta, a convincere chissà qualcosa di rivolgersi alla polizia locale e dare un nuovo impulso all'inchiesta. Attualmente una squadra di investigatori sta lavorando sull'omicidio, che ha scosso l'opinione pubblica e spaventato molti stranieri residenti lì. Anche a livello diplomatico il Ministero degli Esteri è in contatto costante con le autorità locali. Tuttavia novità non sembra che ce ne siano e così la madre e il fratello di Guarniero sono pronti a mettere a disposizione questi 20.000 dollari, circa 18.000 euro, per fare giustizia.